Grazie, allora buona domenica a tutti, oggi non leggo nessun titolo contro l'Inter del fatto che appunto ha rubato, l'hanno decisa loro come intitolava qualche giornale qualche anno fa per una partita di Money Cup tra Juventus e Napoli vinta da Juventus per 4-2 la Money Cup sarebbe la Supercoppa italiana, ovviamente non è più Supercoppa italiana comunque, a parte questo, io non mi attacco ai complotti, ai palazzi, ai sistemi, sapete benissimo io dico semplicemente che sono errori arbitrari allora, io ho sempre detto che non è l'arbitro, sì potrebbe essere anche l'arbitro che sbaglia però è il regolamento del VAR che è sbagliato, cioè quando deve e può intervenire il VAR lì è sbagliato, perché si parla di questo chiaro errore, ma il chiaro errore chi è che lo stabilisce? perché se ad esempio sul rigore dato all'Atalanta ieri stiamo qui a discutere sì, no, forse, perché per me è rigore, per qualcun altro no quello non è chiaro errore, quindi lì il VAR non può intervenire però, su un episodio come quello di Martinez trascendo che c'è un altro episodio, ad esempio il rigore battuto è stato fatto ripetere, se non sbaglio, alla Lazio qualche tempo fa o contro la Lazio, non mi ricordo, vabbè perché appunto c'era un giocatore in area di rigore che poi ha preso la palla e ha segnato, se non sbaglio vabbè, stessa cosa per Godin, perché quando è stato battuto il rigore lui era dentro l'area di rigore e poi è stato lui a spazzarla quindi il rigore sarebbe stato, cioè avrebbero dovuto farlo ribattere per forza soprattutto da quest'anno che hanno detto che il VAR verrà usato anche per queste situazioni in area di rigore quando un rigore viene battuto comunque, a parte questo l'episodio un po' chiave è il rigore non dato su Toloi, se non sbaglio, per farlo di Martinez e mi soffermo sul fatto del chiaro errore più che altro ma se tutti, tutti, non ce n'è uno tutti, che poi gli interisti magari giustifichino un po' l'episodio tirando fuori altre cose vabbè, però comunque molti interisti hanno detto anche gli interisti che quello era rigore e non solo rigore, aggiungo io e non io lo aggiunge il regolamento quello era fallo da rosso perché era rigore e appunto poi conseguente fallo da rosso perché si parla da qualche tempo che la tripla sanzione è stata elevata quindi il rigore espulsione è squalifica non è così, cioè è stata moderata lo ripeto su questo aspetto vi invito di andare a vedere appunto il video di Marelli Luca Marelli ex arbitro che a me molte volte non piace però vabbè, comunque a parte questo andatelo a vedere perché ha riportato un po' il regolamento cosa dice? e il regolamento dice che se tu non fai un intervento per appunto prendere il pallone poi magari prendi il giocatore è una chiara occasione da rete e lì viene ammunito di solito ma quando tu intervieni senza possibilità di prendere il pallone per prendere solo l'avversario e questo avversario ha una chiara occasione al gol anche in area di rigore il cartellino deve essere il rosso questo è quello che dice il regolamento quindi diciamo che la chiara occasione al gol è stata moderata una volta veniva espulso anche quello che interveniva per prendere il pallone magari esternamente nell'area di rigore propria e adesso invece uno se interviene così viene ammunito però quando tu prendi il giocatore avversario con la volontà di prenderlo e questo qui avrebbe la possibilità di battere a rete perché comunque quel giocatore Toloi è arrivato sul pallone scordinato sbilanciato e appunto con lo sgambetto fatto col braccio a Martinez fosse arrivato senza quello sgambetto ok sarebbe arrivato normalmente e avrebbe sicuramente fatto gol perché comunque era sulla linea quindi se è arrivato a toccare il pallone con tutte queste defezioni causate da Martinez figurarsi in condizioni normali ecco e ha sfiorato il gol comunque cadendo ma va bene e appunto l'espulsione di Martinez poi sarebbe avrebbe condizionato tutto il secondo tempo dell'Inter a parte il rigore che poi molti interisti mi sento dire avete visto il rigore sbagliato a Muriel e il rigore va trasformato si ma rompete le balle da oltre 20 anni con il rigore Ronaldo e Juliano che poi si può discutere se c'era o non c'era e perché c'era un rigore su Ronaldo e poi mi venite a dire questa cosa qui ma il rigore deve trasformarlo poi Ronaldo ok quindi sinceramente anche perché poi nell'azione successiva fischiarono un rigore alla Juventus e se non sbaglio Del Piero lo sbagliò quindi sinceramente non vedo vabbè comunque a parte questo tornando alla partita di ieri e tornando al VAR il problema è che hanno cambiato il regolamento e bisognerebbe migliorarlo ad esempio sui fuori gioco cioè essere più rapidi la macchina dovrebbe essere un po' più rapida non lo so adesso come funziona però veramente ridurre i tempi perché non si può esultare due volte o esultare una volta e poi deprimersi perché magari il gol viene annullato dopo due minuti con la linea che viene tirata e tutte queste stronzate qua quindi lì bisognerebbe essere più rapidi però in questo momento ragazzi e ve lo dico il VAR serve solo per quello solo per il fuori gioco perché per il resto si potrebbe tranquillamente abolire perché il regolamento del VAR non permette praticamente di usarlo mai perché il chiaro errore ma il chiaro errore chi è che lo stabilisce? l'arbitro? chi sta al VAR? no vorrei sapere questa cosa qui perché ieri il fallo di Martinez da parte di tutti ex arbitri arbitri tifosi giornalisti tutti hanno detto che era rigore tutti quindi se quello è un chiaro errore e il Rati al VAR non dice guarda che questo è un fallo evidente non so cosa potrebbe aver pensato sia il Rati sia l'arbitro Rocky io ripeto non dico tanto gli arbitri di possè ma purtroppo gli arbitri sono permalosi presuntuosi e arroganti molte volte purtroppo perché questa cosa l'ho vista l'ho vissuta in prima persona perché poi quando hai un arbitro che magari ti sbaglia un po' contro ma ha una personalità e non ha un'arroganza tale da farti nervosire lasci anche perdere un rigore non dato il problema è la gestione complessiva e anche l'atteggiamento che ha un arbitro che i giocatori notano poi ragazzi comunque scusate perché il cellulare deve fare gli aggiornamenti sempre quando faccio i video comunque a parte questo poi c'è qualcuno che mi dice eh ma non dobbiamo guardare gli errori arbitrali a favore delle altre squadre non dobbiamo fare come loro ragazzi ma a voi Farsopoli non ha insegnato nulla noi dobbiamo dobbiamo sottolineare quando abbiamo episodi contro e quando hanno episodi a favore anche le altre squadre io poi analizzo non per dire che l'Inter ruba ma semplicemente per far capire che tutti hanno errori a favore e contro ok per quanto riguarda gli errori arbitrali e non mi so fermo tanto sul fatto di dire che l'Inter ha rubato perché non mi interessa nulla però è giusto evidenziare per far sì che poi la prossima volta tu abbia un qualcosa di concreto da sbattergli in faccia perché se noi poi lasciamo sempre perdere poi passa il messaggio che la Juve ruba sempre perché è normale se poi si evidenziano sempre gli episodi a favore della Juventus e mai quelli contro la Juventus che magari sono anche di più e a favore delle altre squadre che magari sono anche di più è normale che poi passa il messaggio che la Juventus ruba perché si evidenziano solo gli errori arbitrali a favore della Juventus comunque a parte questo quello che volevo e ci tenevo a precisare è che purtroppo il regolamento del VAR è cambiato dal primo anno al secondo e al terzo perché purtroppo hanno permesso di avere non dico potere in mala fede ma potere decisionale agli arbitri in più sbattendosene del VAR perché questo è il problema cioè gli arbitri sono talmente permalosi ok che hanno detto il VAR purtroppo poi si mette nelle condizioni di ammettere dei nostri errori e questa cosa non la possiamo accettare ok tanto che poi le polemiche comunque ci sarebbero comunque ma loro non vogliono fare la figura di merda davanti non so a 60-70 mila spettatori nel ritornare sui propri passi questo è un dato di fatto purtroppo ok comunque ci tenevo a precisare questa cosa qui perché anche il rigore non dato il problema è questo chiaro errore bisogna levare questo chiaro errore perché ieri per tutti è stato un chiaro errore il rigore non dato a Martinez e l'espulsione non data a Martinez solo all'arbitro e a quello che era il VAR cioè ai risati hanno visto che non era questo chiaro errore bisognerebbe fare chiarezza e Rizzoli dovrebbe fare chiarezza come l'ha fatta benissimo per il fallo in mano dovrebbe farla anche per quanto riguarda i contatti perché evidentemente ed effettivamente cioè noi non abbiamo le idee chiare ecco e fino a quando ci sarà questa cosa questo regolamento del VAR che permette agli arbitri di sbagliare senza poi tornare sui propri passi perché c'è questa regola del chiaro errore il VAR non servirà a nulla e l'ho detto a inizio anno vedrete che il VAR non interverrà più per i contatti interverrà solo per magari il fallo di mano se c'è o non c'è e per il fuorigioco infatti si sta arrivando a tale situazione perché non ho mai visto quest'anno cambiare decisione da parte dell'arbitro dopo un contatto o non contatto riguardato il VAR da parte di chi appunto sta il VAR mai questo significa che purtroppo il VAR viene utilizzato perché comunque appunto c'è l'evolamento che bisognerebbe cambiare viene utilizzato per tali non dico scopi ma per cercare di non comunque non so sbugiardare un po' l'arbitro ecco vabbè fatemi sapere la vostra ci vediamo al prossimo video sempre comunque buona giornata e fino a fine forza di ventos